L'idea nasce tanto tempo fa, parliamo degli anni prima del 2010, nasceva da una passione che avevo io, che era una passione per la corsa che avevo approcciato in quel periodo, era il tempo in cui gli smartphone stavano incominciando ad uscire, erano appena usciti i primi dispositivi Android e correndo, correndo, correndo mi era venuta l'idea, se non la necessità, perché lo facevo in prima persona, di avere la possibilità di essere allenato, di avere un contatto umano, però non tanto una persona che venisse con me, ma la possibilità di essere allenato in una modalità tecnologica, soprattutto parliamo, ripeto, del 2007-2008, un contesto tecnologico un po' diverso da adesso, la connessione ai dati si pagava i tempi, per capirci, e quindi da qui era andata questa idea di avere la possibilità di avere un allenatore reale, non virtuale, perché ai tempi esistevano, stavano incominciando ad uscire le prime app in cui c'erano degli allenatori cosiddetti virtuali, ovvero l'applicazione stessa che ti faceva da allenatore, ma parlavamo di un software, da qui invece mi è venuta l'idea di avere una o più persone reali che effettivamente ti seguissero, però a distanza grazie alla tecnologia, da lì poi ai tempi io lavoravo all'università come ricercatore, erano nate delle ricerche nel settore della Human Computer Interaction, abbiamo avviato tutta una serie di ricerche correlate a queste tematiche qui, fin tanto che nel 2013, se non ricordo, abbiamo preso il primo contributo da Sardegna e Ricerche che ci ha permesso di trasformare l'idea in un progetto di impresa, quindi è nato proprio l'embrione, il primo nucleo di impresa. L'innovazione in cosa consisteva? Nel fatto che abbiamo realizzato un marketplace di personal trainer reali, di coach del running, accessibili quindi tramite la tecnologia in una maniera tale che l'amante della corsa potesse innanzitutto scegliere liberamente in un mercato una persona reale dalla quale essere allenata. Inoltre la tecnologia, quindi l'applicazione mobile che era il cuore tecnologico, permetteva da una parte, ti dice quello che devi fare in modo tale che tu non devi ricordarti quello che il tuo allenatore ti ha, la scheda che ti ha creato il tuo allenatore, però contemporaneamente registra anche tutto quello che fai, quindi velocità, accelerazioni, dislivelli, battito cardiaco, eccetera, e gli invia a fine allenamento al tuo allenatore, che quindi nella piattaforma ha tutto un gestionale dei propri atleti, dal quale può analizzare la prestazione di ogni suo cliente, atleta, sportivo e può fornire dei feedback. Quindi l'innovazione in cosa consisteva? E consiste, siamo stati i primi e gli unici a creare non solo in Italia, ma nel mondo, un marketplace di allenatori specifici nel running con tutta la tecnologia, annessa e connessa, per permettere questa relazione a distanza. La collaborazione con Sardine Ricerca è stata per noi fondamentale, infatti non solo, come ho già detto, siamo partiti nel 2013 con un bando di Sardine Ricerca che ci ha permesso proprio di fondare l'azienda e di creare il primo embrione della nostra piattaforma tecnologica innovativa, ma successivamente, grazie ad altri due bandi specifici, ci ha permesso da una parte di sviluppare altre soluzioni tecnologiche, innovative, in particolar modo correlate all'intelligenza artificiale, dall'altra di sviluppare l'aspetto di business, l'aspetto commerciale con un altro bando specifico, il cui fine è quello di aiutare la commercializzazione e lo sviluppo commerciale delle aziende. La visione è quella di realizzare il primo e unico marketplace mondiale per il fitness in generale, infatti si chiama You4Fit per quello, anche se adesso è focalizzato nel running e nella camminata sportiva, anche a scopi terapeutici, su cui abbiamo fatto anche delle ricerche specifiche, la visione proprio a lungo termine è quello che diventi un marketplace di personal trainer mondiale nel fitness in generale, quindi non solo nel running, ma nelle altre attività sportive. Tuttora non esistono marketplace di questo tipo, esistono varie soluzioni che lavorano online, ma sono non pensate per essere un'attività di personal training specifico, uno a uno, in una modalità in remota. Adesso noi siamo focalizzati, ripeto, sul running e nel mercato italiano, rimarremo ancora nel running e nella camminata sportiva, ma stiamo già lavorando per l'internazionalizzazione, per cui stiamo procedendo adesso a espanderci nel mercato mondiale.